Una tradizione che si rinnova nel tempo, il presepe di San Silvestro curato direttamente da Giuseppe di Lisio. Intanto facciamo la storia di questo presepe. Quando è nato? Quindi praticamente da oltre 40 anni, su una superficie di circa 200 metri quadri. Noi giustamente catapultiamo i bambini nell'ocena della tecnologia, regalando loro computer, cellulari. I bambini hanno bisogno di fantasticare, allora è bene, regaliamo loro un po' di fantasia, anche perché arricchiscono il bagaglio culturale. Io praticamente ogni anno, sotto le festività natalizie, cerco di realizzare il presepe cambiando ogni anno, perché vengono i bambini dalle scuole. Altrimenti se io non lo cambio, loro dicono come? L'abbiamo visto l'anno scorso. Allora sono costretto a farlo. Io praticamente ogni anno, la sera, maggiormente preferisco la sera, perché realizzare questo presepe la notte per me è come recitare una preghiera. Un momento che regala davvero tante emozioni, ma venendo qui i bimbi più piccoli, che cosa le chiedono? Da cosa sono attratti? Da cosa sono affascinati? I bambini hanno bisogno di un po' delle cose semplici, non delle cose artificiali. L'altro giorno sono venuti da Montesilvano dei genitori con due bambini e il giorno dopo hanno portato pure i nonni. Ciò dimostra che hanno bisogno pure loro delle cose semplici che lo rendono più felici delle cose artificiali. Un presepe su oltre 200 metri quadri, ma quanto tempo c'è voluto? Perché è un presepe anche animato per certi versi. Ma io realizzo ogni anno, dalla metà di ottobre, la sera, 3-4 ore, pure di più. Preferisco nella solitudine farlo da solo e ho delle ispirazioni. Se il Padre Eterno mi dà la salute, un altro anno lo vorrei fare ancora più grande, per il bene di tutti quanti. Ecco, Dilizio, quali sono le difficoltà nell'organizzare, nel preparare una struttura così? Ma la struttura rimane sempre quella. Giustamente ogni anno devo cambiare le scenografie, quindi praticamente prima faccio dei disegni e dopo piano piano realizzo quello che mi viene in mente. In questi momenti a chi si sente di dire grazie? Chi l'è stato vicino nella realizzazione di questo presepe, fantastico presepe qui a San Silvestro di Pescara? Ma io ringrazio un po' tutti quanti e maggiormente la mia nipotina Ludovica che mi segue e anzi in questo presepe ha realizzato un alberello. Mi ha detto, non me lo metti nel presepe, io volentieri perché dobbiamo, tocca a noi adulti rispolverare le belle tradizioni. E quindi vedo che hanno bisogno pur degli insegnamenti da parte nostra questi benedetti bambini.